Ed eccoci finalmente alla recensione di It Takes Two, nuovo gioco sviluppato dai Hazelight Studios, ancora una volta sotto l'attenta direzione del maestro Joseph Fares. Il team è lo stesso di Brothers A Tale of Two Sons e di A Way Out, e It Takes Two non è poi così diverso dai precedenti concettualmente parlando. Per la terza volta, l'intero progetto è stato pensato per essere giocato dall'inizio alla fine in compagnia, sia a gomito a gomito sulla stessa console che attraverso le meraviglie dell'online. Nonostante questa importante somiglianza, ci troviamo davanti a un'esperienza che, in quanto a contenuti e tonalità, è totalmente diversa dai suoi due illustri predecessori. Messi da parte il fantasy di Brothers e il dramma criminale di A Way Out, con questa terza opera, gli Hazelight Studios prendono il volo affidandosi alla libertà concessa dall'immaginazione a briglia sciolta. Questo ha concesso al gruppo di confezionare quello che probabilmente è il loro titolo migliore, l'esperienza che finalmente concretizza questa idea di gioco dove la cooperativa è davvero centrale. E in questa recensione vi raccontiamo come mai il gioco ci ha letteralmente conquistato. Alla base di Takes Two c'è una storia meno sfumata e più semplice rispetto alle precedenti, ma non meno toccante. In questo caso protagonista è una coppia in procinto di divorziare e il dolore che questo provoca nella loro piccola figlia. Il trauma del momento si trasforma in magia quando, in un agrodolce ultimo giorno d'amore, lei e lui vengono trasformati in piccole bambole di cotone, bottoni, legno e plastilina. Due eroi pronti a sopravvivere in un viaggio che li porterà fin sopra le stelle, senza però mai uscire dal giardino di casa. Un'avventura in stile tesoromi si sono ristretti i ragazzi ma con ruoli invertiti e che presenta continuamente nuove idee di gameplay, salendo gradualmente di intensità man mano che si avanza verso i titoli di coda. L'obiettivo dei due è ovviamente quello di collaborare per raggiungere la figlia, figlia che rappresenta anche la chiave che dovrebbe riportarli alla normalità. Un attimo prima si spara e quello dopo si salta e si ragiona. Quando finiscono le idee, finisce anche il gioco. Il ritmo è sempre alto e non c'è spazio per la noia, e l'affiatamento dovrete mettercelo voi e la persona con la quale deciderete di giocare It Takes Two, visto che non c'è nessun tipo di single player, non c'è nessun modo di giocarlo da soli, a meno che non moriate dalla voglia di mostrare le vostre abilità speciali su Twitch, impugnando due joypad contemporaneamente. In It Takes Two non c'è neanche un momento che non preveda la collaborazione stretta tra i due personaggi, e quindi tra i due giocatori. Ce ne sarebbero da raccontare, ma questa è un'esperienza così bella, serrata e irripetibile, che ogni spoiler di gameplay sarebbe un piccolo sgarbo nei vostri confronti, addirittura più di ben precise rivelazioni di trama. Ciò che ci preme più raccontarvi, oltre quello che forse avete già visto in trailer, video recensioni e dirette in ogni dove, è l'incredibile varietà che si nasconde in It Takes Two. Le sue ambientazioni sono legate a certe meccaniche, come l'utilizzo di chiodi e martello negli scantinati, oppure i fiammiferi e della resina nel grande albero in giardino. Ma questa divisione si farà sempre meno stringente, permettendo al gioco di ficcarci in situazioni sempre nuove e via via più emozionanti e divertenti. In altri giochi siamo abituati a vedere un'idea reggere sulle sue spalle un intero livello, spesso molto lungo. It Takes Two invece cambia regole e punti di vista continuamente, in modo spesso repentino, inaspettato, stupefacente. Qui dentro troverete brandelli di gameplay tratti da una dozzina di giochi diversi, oltre naturalmente a cose tutte nuove. Sfide di abilità, puzzle, trabocchetti, boss, piattaforme, rincorse, api assassine, fisica ribaltata, ogni cinque minuti un'idea nuova, un nuovo modo per collaborare. Ma la cosa più bella è che finite le idee, come dicevamo, finisce il gioco. L'esperienza poi non è difficile, ma questo non significa che sia per forza facile. Diciamo che è perfettamente calibrato per offrire una sfida degna senza risultare mai eccessivamente cattivo, merito anche degli abbondanti checkpoints. Non esiste poi un vero e proprio game over, visto che anche nel peggiore dei casi si ritorna in partita con attese minime e a pochi metri dall'ostacolo che ci aveva colto in fallo. Per farci riprendere fiato, It Takes Two nasconde al suo interno diversi minigiochi estremamente divertenti, ma una volta sbloccati potranno essere rigiocati liberamente, selezionandoli dal menu principale. Un applauso poi a chi ha deciso di registrare vittorie e sconfitte di ogni partita, in modo che se le coppie di giocatori o uno di loro la prenderà sul personale, la sfida potrà continuare anche finita l'avventura. Sono passatempi semplici, eppure molto efficaci. Ce n'è uno in cui lui deve uscire dalle botole e lei deve dargli le martellate in testa, un altro nel quale bisogna sparare a dei bersagli in movimento per mandarli contro l'avversario, e un altro ancora che invece ci risucchia in una sorta di battle zone multiplayer. It Takes Two usa lo stesso sistema di split screen dinamico visto in A Way Out. In questi giochi lo schermo è prevalentemente diviso in due, anche collaborando online, in modo che ognuno veda cosa sta facendo l'altro in tempo reale. A volte, per esigenze narrative o di gameplay, questa suddivisione dello schermo cambia fluidamente, senza alcuna interruzione di sorta. È un espediente, come abbiamo detto già visto, qui usato meno che in passato, ma che funziona e sembra ormai essere diventato un vero segno distintivo dei giochi Hazelight. Giocato su PlayStation 5, It Takes Two è un gioco davvero molto bello da vedere, totalmente privo di rallentamenti, anche se non si espone con chissà quali complessità geometriche. Diciamo che c'è molto più stile che poligoni, e forse in questo caso è un peccato. La grafica non è tutto, ma fatichiamo a nascondere il desiderio di vedere un giorno un gioco così, ma con una grafica da capogiro e una colonna sonora orchestrata di lusso. Se lo meriterebbe più It Takes Two che tanti altri prodotti che si reggono in piedi con i loro faraonici budget, a cui Hazelight e Joseph Ares non hanno accesso. L'unico modo per farlo succedere è continuare a supportare prodotti simili, e se la qualità raggiunta al terzo tentativo è questa, non dovrebbe essere uno sforzo per nessuno farlo. In definitiva, It Takes Two è senza dubbio il miglior gioco di Joseph Ares e i suoi Hazelight Studios. La sua forte caratterizzazione e il suo voler sfidare Pixar e per certi versi anche Nintendo, o quantomeno provare ad attirare la loro attenzione, mostra il fianco a un budget che naturalmente non regge il confronto, ma che dimostra senza dubbio di meritare. Se fosse solo gameplay potrebbe accontentarsi di rimanere uno straordinario gioco indipendente, ma qui si vola molto più in alto e di conseguenza si nota dell'incredibile potenziale inespresso. Va giocato, sceglietevi la persona giusta e non dubitate un solo istante. E ricordatevi che basta una sola copia del gioco per giocare in compagnia anche online, basta scaricare l'apposito pass esattamente come Way Out. Grazie. 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 Grazie.